È una classica del ciclismo estivo e l'Albodoro presenta un numero interessante visto che quella di domani sarà l'edizione numero 99. Dopo il Giro del Casentino, infatti, il trofeo Santa Lucia di Cesa è la corsa più vecchia che viene organizzata in provincia di Arezzo. La manifestazione chiude il trittico di gare nell'Aretino, iniziato con il Giro del Casentino e proseguito con il Memorial Tortoli. Cesa da sempre rappresenta un momento di festa e partecipazione della popolosa frazione del comune di Marciano. Tecnicamente ha sempre messo in vetrina le ruote veloci e le recenti vittorie di Matteo Trentin lo confermano, ma è sempre in grado di riservare delle sorprese. Il tracciato è quello tradizionale, sei giri per Badicorte e Marciano, poi lo strappo delle vignacce che si fa sentire e l'epilogo nel vialone di Cesa. La direzione di corsa è affidata alla mano esperta di Enzo Amantini. L'arrivo è previsto per le 17.15.